ciao benvenuto benvenuta questa è la lucerna di cronus e questa è la rubrica espresso che stamani è di nuovo tra noi e tarocchi un consiglio per la giornata di oggi giovedì 10 novembre il giorno della metamorfosi lo definisce il libro personologi la caratteristica principale di coloro che sono nati il 10 novembre è quella di essere sempre in perpetua trasformazione trasformazione che interessa sia loro stessi sia i materiali prodotti le situazioni con cui si trovano a lavorare o che si trovano a vivere la loro trasformazione personale può sembrare talvolta molto lenta e a tratti anche dolorosa può apparire e spesso richiede perlomeno nei suoi stadi finali una vera e propria lotta con se stessi un po come il bruco che si rigenera trasformandosi in una farfalla questo è un po l'allegoria del percorso dei nati il 10 novembre danno spesso l'impressione di essere molto costanti e immutabili eppure se li si guarda come fossero le lancette di un orologio mi piace questa metafora si può notare un piccolo impercettibile movimento continuo nelle loro azioni nel loro modo di essere anche nel lavoro queste persone sono perennemente alla ricerca di qualcosa abilissimi nel trasformare se stessi e nel maneggiare trasformare i materiali con cui vengono a contatto quasi tutte le persone nate il 10 novembre mostrano un'incredibile padronanza istintuale dei meccanismi che muovono sia le dinamiche sociali che le dinamiche affettive per questo spesso risultano individui potenzialmente attraenti addirittura magnetici non sempre capiscano partecipano delle preoccupazioni della gente in genere sembrano interessati più che altro a se stessi mancando di una vera e propria coscienza sociale coloro che arrivano a capire l'importanza del contatto sociale diventano però persone su cui fare affidamento in maniera indissolubile molto profonda e diventano anche partner molto importanti molto durevoli nel tempo chi invece è troppo ripiegato su se stesso fra i nati il 10 novembre si preoccupa unicamente della propria crescita personale e non di sviluppare quella che è la propria posizione sociale talvolta questo può addirittura riversarsi nella carriera lavorativa a un certo punto della vita i nati del 10 novembre si troveranno a dover pagare dice il libro una parola che può sembrare anche forte preferirei trovarne un'altra ma ora non mi viene a dire la verità il prezzo di avere un temperamento eccessivamente critico non facile da soddisfare inoltre a forza di essere troppo seria da secondare le proprie personalissime abitudini potrebbero finire per imboccare magari direzioni sbagliate che non riportano a realizzazione duratura in genere nati in questo giorno non brillano per sicurezza di sé e quando si tratta di affrontare il mondo anche nei momenti di sconforto conservano un senso di orgoglio e di fede ai propri valori anche se dall'esterno il loro mondo interiore può sembrare alquanto scuro forse complicato essi lo conoscono bene vi si trovano perfettamente al loro agio per questo lo proiettano costantemente in evoluzione raramente vanno al di là delle proprie possibilità raramente sono persone che fanno il passo più lungo della gamba il rischio per loro è semmai quello di non fare abbastanza la conoscenza di sé dice il libro è croce e salvezza insieme di queste persone tanto affascinanti quanto intricate i nati nel decimo giorno del mese sono governati dal numero uno e dal sole chi è dominato dall'uno vuole in genere primeggiare in tutto ciò che fa il sole tende ad assicurare un io ben sviluppato un orientamento alla vita positivo e decisamente umano a causa però dell'influenza plutonica ricordiamo plutone governa lo scorpione tali qualità solari possono essere messe in ombra nei nati il 10 novembre chi è dominato dal numero uno in genere ha opinioni personali persino ostinate in alcuni casi su tutto e su tutti ed è convinto che saper cogliere l'occasione sia la chiave del successo nel caso dei nati il 10 novembre però prendere decisioni di questo genere può essere anche molto molto complicato se non addirittura dice il libro doloroso la carta associata ai nati oggi è la ruota di fortuna i pregi sono creativo sicuro di sé attraente difetti flemmatico particolare ripetitivo il consiglio del libro è siate sensibili alle difficoltà che create con gli altri uscite da voi stessi e partecipate alla vita del mondo non abbiate paura di brillare aprite più spesso la porta delle emozioni e siate più fiduciosi adottate uno stile di vita più flessibile il pensiero del giorno è le piante si girano molto lentamente ma inesorabilmente verso il sole bene dopo l'analisi del libro personologi andiamo a vedere il tarocco marsigliese di claude bordel che cosa ci consiglia per la giornata di oggi giovedì 10 novembre ok intanto ti ricordo che 28 il 29 di novembre torna il workshop di cartomanzia divinazione per imparare a leggere le lame degli arcani maggiori se sei interessato interessata mi puoi contattare al numero 388 57 76 772 il 5 di denari il 10 di spade il bagatello se segui questa rubrica sai che il giovedì è l'ultimo giorno in cui uso i tarocchi il venerdì poi uso gli oracoli bene chiudiamo questa settimana con un bel fuocone d'artificio che merita veramente le migliori parole sono carte forti il 5 di denari una carta di perdita una carta di anche tristezza in un certo senso di frustrazione di sconfitta ma è seguita da un 10 di spade il 10 di spade è una carta particolare spesso spaventa il consultante 10 spade intrecciate anzi addirittura 8 spade intrecciate e altre due messe vedi ci sono 8 spade e altre due messe quindi è comunque una carta che può portare un attimino di preoccupazione un attimino di spavento ma il 10 di spade in realtà ha un messaggio bellissimo è proprio perché incuranti di quello che è questo groviglio di lame queste due spade penetrano a fondo il 10 di spade è il riuscire a focalizzare il bandolo della matassa il nocciolo del problema per poter non solo elaborare una perdita ma anche rimediare ad una perdita e quindi alla fine di un periodo critico e questo è seguito dal bagattello carta di rinascita quindi direi che qua il messaggio è molto bello già si potrebbe dire citando un testo famosissimo i carmina burana con un latino un po maccheronico ti giuro che così non me lo sto inventando malum non è proprio latino però il testo è così dopo un grande male arriva sempre una grande benedizione e già si potrebbe dire perché perché si è focalizzato il perché c'è stato un grande male il resistere alla perdita non porta a niente ma il trovare la chiave per capire il perché c'è stata una perdita che porta alla rinascita anche su questo consiglio di oggi sono usciti molto forti in questa prima settimana di novembre i consigli anche su questo consiglio di oggi dicevo bisognerebbe stapparci veramente a un oceano di considerazioni se c'è una perdita se c'è un dover rilasciare qualcosa o qualcuno anche o magari c'è un momento di sconforto o magari c'è rimani un numero uno non cercare di tappare i buchi di questa perdita vai alla radice perché più tu tappi i buchi più se ne aprono da altre parti se vai alla radice recidi la pianta quindi spesso e volentieri quando abbiamo un problema quando abbiamo un senso di sconfitta un po come questo 5 di denari ci dice non guardiamo l'origine della sconfitta ma guardiamo il frutto e questo è un grave errore perché nel momento in cui guardi il frutto guardi ciò che succede guardi ciò che ti sta succedendo non eradichi il problema e al momento in cui eradichi il problema che poi con i suoi tempi certo questo si va a spegnere prendo l'ipotesi di una relazione visto che comunque l'amore è un tema che ci tocca un po' tutti una relazione che nasce su parametri di sfiducia di poca convenzione di sarà sempre una relazione problematica oppure porto l'esempio di un lavoro un lavoro che si accetta per compensazione perché si ha bisogno sarà sempre un lavoro che ci pesa il tagliare alla radice è chiarire quei meccanismi non dico lasciare il tuo partner o lasciare il tuo lavoro per carità chiarire quelle dinamiche quei meccanismi che fanno sì che si sia accettato di fare un percorso che poi si è rivelato un errore nel momento in cui hai chiarito queste hai vinto su tutti i fronti perché hai capito qual è il meccanismo che origina il copione non è facile può richiedere anni anche un lavoro di questo genere però vedi è forse una delle chiavi maggiori del successo e richiede anche molta autocritica auto onestà una visione abbastanza limpida di se stessi è per questo che richiede tempo ma nel momento in cui tu eradichi ciò che origina lo scrittore interno a te di questi copioni tu eradichi anche i copioni e quindi i problemi non si ripresentano più quindi quando dici nella mia vita si ripresentano le stesse dinamiche è perché non hai ancora resciso dentro di te quell'aspetto che le attira quando resciderai quando andrai a fondo nonostante tutte le tue resistenze come fanno queste spade e resciderai quell'aspetto di te che attira compensatorio, egoico, insicuro che attira certe dinamiche e per te ci sarà rinascita è un consiglio molto forte che chiude una settimana forse sono io che sto diventando un po' più un misantropo magari ad addolcirmi ci pensa il mio espresso che finalmente è tornato per la mia gioia io ti ringrazio per aver visto questa lettura e ti aspetto domani con gli oracoli per la rubrica espresso più tarocchi ciao